Si attende in questi giorni l'arrivo in città della sovrintendente e beni librari per l'Abruzzo Rachele Colella che incontrerà l'assessore alla cultura Manuela Cozzi e il consigliere regionale Antonietta Laporta allo scopo di cercare una nuova sistemazione per gli oltre 20.000 volumi conservati nella biblioteca comunale Ovidio in piazza Tommasi chiusa dal momento del terremoto, 10 anni, sebbene mai dichiarata inagibile. La biblioteca che custodisce preziosi e rari testi ovidiani raccoglie anche i volumi come 500 e altri di enorme pregio che riscano di andare alla malora visto il buio e l'umidità. Sarà opportuno trovare una sistemazione comunque in centro così da rendere accessibile e fruibile a tutti il servizio di biblioteche e sottrarre il patrimonio librario a qualsiasi rischio, ha sottolineato la sovrintendente suggerendo anche la costituzione di un unico polo librario nel quale raccogliere anche le biblioteche dei comuni del comprensorio. È importante porre seria attenzione a questa situazione, ha precisato invece Antonietta Laporta e trovare adeguate soluzioni in tempi rapidi per tutelare un patrimonio tanto prezioso e unico e la troveremo. Intanto la notizia ha fatto il giro della città e Meetup proprio oggi con un comunicato stampa propone una possibile collocazione dell'intera biblioteca negli ampi locali dell'ex Carispac, in piedo centro storico. Ricordando inoltre che nel marzo dello scorso anno il presidente della fondazione Carispac, Domenico Taglieri, aveva proposto all'allora assessore Cristian Lacivita il progetto di fare di detta struttura il Palazzo della Cultura. Progetto che incassò il sì dell'amministrazione. Sarebbe in posizione ottima e centrale e potrebbe consentire la ripresa proprio di quegli eventi culturali come presentazioni di libri, convegni o piccoli concerti come d'uso negli storici locali della sala linea della biblioteca.